Pescolanciano apre le porte all'accoglienza. Due bambini ucraini, ospitati insieme alla mamma da una famiglia del posto, sono entrati in classe per il loro primo giorno di scuola in Italia. Roman e Kirill, due gemelli, sono stati iscritti entrambi in quinta elementare e ad accompagnarli nella nuova aula è stato il sindaco Manolo Sacco, soddisfatto e orgoglioso di questa forte testimonianza di solidarietà da parte dei cittadini di Pescolanciano. Esattamente, io penso che Pescolanciano questa mattina si sveglia all'insegna della gioia e della solidarietà. Dopo un sacco di sacrifici siamo riusciti ad ospitare una famiglia che purtroppo viene da una situazione quando meno catastrofica e oltre ad aver trovato accoglienza oggi fanno il loro ingresso a scuola appunto per un passo verso la socializzazione e l'istruzione. Ecco sindaco, possiamo dire già che non sarà l'unica famiglia qui a Pescolanciano? Esattamente, è anticipato, a breve verrà già qui in Pescolanciano un'altra famiglia con altri due bambini, a breve ne verrà un'altra e mano a mano anche loro faranno l'ingresso alla scuola primaria e secondaria del comune di Pescolanciano. Vorrei ringraziare l'associazione Il Girasole che insieme all'amministrazione comunale si è adoperata affinché oggi arrivassimo a questo risultato. Abbiamo fatto anche una raccolta fondi per far sì che altre famiglie potranno trovare accorrenze e ristoro nel comune di Pescolanciano e quindi diciamo che Pescolanciano è pronta per accogliere e per dare una mano. Con le mani cia cia, con i piedi, con i piedi, con i piedi cia cia, con la testa, con il pezzo, con il cuore cia cia. Ad accogliere i due gemelli nella nuova scuola un coro di benvenuto e le maestre della primaria che dopo le presentazioni generali hanno realizzato insieme a tutti gli scolari un manifesto di pace scritto sia in italiano che in ucraino. Un'accoglienza davvero gioiosa stamattina, cosa avete organizzato? Delle attività per accogliere questi bambini, per farli sentire tra noi inclusi, benvoluti perché è ciò in cui crediamo. È una canzoncina di benvenuto, il benvenuto in ucraino, il benvenuto in lingua italiana. La presentazione, ora abbiamo organizzato un'attività proprio per cercare di renderli parte integrante della nostra comunità, della nostra scuola.